Grande vittoria e anche grande prestazione da parte tua. Sì, una grandissima vittoria, venuta dopo un bruttino primo set, perché comunque siamo partiti un po' malino. Abbiamo sistemato qualche cosa e le cose sono andate meglio. Siamo stati bravi fino alla fine a non mollare mai, perché comunque Perugia è una grande squadra, forte, che è venuta qui per fare il risultato e ci ha provato fino alla fine. Siamo stati bravissimi, ripeto, e ci godiamo questi tre punti. Tu un po' come la squadra, partenza difficile e poi molto bravo a reagire. Sì, partenza un po' difficile, mi ha aiutato anche il coach a mettermi fuori subito, perché sono partito un po' così e così, e mi ha aiutato a riprendermi con la testa, a rientrare dentro e dare il mio contributo. Quanto vale questa vittoria dal punto di vista psicologico? Vale tanto, vale tanto, perché comunque sempre contro una squadra forte e ci dà morale, soprattutto per le prossime partite, che ci attendono e che sono difficilissime. Hai vinto anche il duello con Natanasievi, c'è una soddisfazione? No, quello che mi interessa, a me e la squadra, e oggi ci siamo riusciti a pieno. Adesso grande appuntamento mercoledì decisivo, forse, per la Champions. Sì, un appuntamento importantissimo contro una squadra forte, ci aspetterà un ambiente caldo e andiamo lì per provarci e per provare a portare via qualche punto. Grazie.